Ehi, dove stanno i spazi? Un approzzo forte per loro, dai! Auguri! Siamo pronti? Un approzzo forte per loro, dai! Un approzzo forte per loro, dai! Un approzzo forte per loro, dai! Questa è un approzzo forte per loro, dai! Un approzzo forte per loro, dai! Grazie a tutti. Grazie a tutti.